buongiorno a tutti è il mio primo video in assoluto quindi spero di non commettere gaff di non sbagliare troppo i termini di parlare un corretto italiano altrimenti perdonatemi allora oggi vi vorrei parlare e soprattutto vi vorrei far vedere vorrei analizzare diciamo con il plugin doctor della ddmf che è un ottimo analizzatore di plugin audio per fare musica vi vorrei analizzare dicevo il virtual mix rec 2 quindi seconda versione della slid digital allora premetto subito che non mi sta pagando non mi sta sponsorizzando slid digital non me l'ha regalato è la versione di prova lo sto testando quindi dirò in modo assolutamente imparziale quelle che sono le mie le mie osservazioni sia positive che negative nell'utilizzo di questo plugin e poi voi potrete essere d'accordo o meno ovviamente ci mancherebbe altro però queste saranno le mie deduzioni ovviamente in base al mio utilizzo e alla mia analisi con plugin doctor quindi quello che dico è frutto della mia testa e non è assolutamente comprato o suggerito da sponsor o da altro tipo di situazione perché ripeto è la demo che sto provando che sto testando allora io inizierei per esempio con l'ecolizzatore allora innanzitutto carichiamo in slid digital nel primo slot il trimmer e diciamo mentre carico il trimmer diciamo che questa interfaccia e questo plugin è stata un'idea veramente rivoluzionaria da parte di slid digital penso sia stato addirittura il primo mister slate a realizzare questa questo tipo di tipologia di plugin di plugin e vi dico anche il perché perché mentre prima ad ogni slot del della nostra dove andavamo caricare compressori ecolizzatori saturatori analizzatori e chi più ne ha più ne metta e ad ogni plugin corrispondeva l'occupazione di uno slot adesso con questa interfaccia noi possiamo caricare diversi plugin in catena in serie nella stessa nello stesso box nella stessa interfaccia vedete qui ho per esempio caricato il trimmer poi posso metterci il revival poi posso metterci un saturatore poi posso metterci un adesso qui non me lo fa vedere perché in plugin doctor ci sono dei problemi di grafica ma posso mettere fino a otto strumenti posso mettere fino ad otto strumenti e questa è una figata paurosa perché nella stessa interfaccia io riesco a gestire otto processori tra cui appunto potrei mettere ecolizzatori compressori saturatori analizzatori v meter e chi più ne ha più ne metta nello stesso plugin e che il quale stesso plugin occupa un solo slot della mia dove e questa secondo me è la figata di questo plugin poi avrà dei pro e dei contro che vi dirò ovviamente però adesso fermiamoci qua andiamo per ordine come dico io allora andando analizzare l'harmonical analysis quindi con una sinusoide pura io l'ho impostata 200 hertz potevo mettere la 100 300 500 quello che volevo l'ho messa 200 hertz quindi sinusoide pura 200 hertz che do in pasto il mio plugin a meno 18 decibel e infatti vedete che il v meter emulato ovviamente perché questa è un'emulazione tutto questo emulato ovviamente dal plugin trimmer dal modulo trimmer del plugin virtual mix rag 2 di slate digital mi segna 0 perché vi faccio vedere questa cosa come come inizio proprio del video perché se io mandassi dentro il mio segnale a 0 decibel il messaggio subliminale che vi voglio mandare appunto questo se io lavorassi nella mia dove all'interno del mio pc del mio computer della mia scatola sempre con file a 0 decibel o intorno comunque gli 0 decibel quando poi realizzo la mia canzone stampo il master il mio master o pre master come si chiamano il pre master fatto da da me che sono il mixing engineering a 0 decibel ripeto o intorno gli e lo mando poi a uno studio di registrazione o uno studio di mastering che attrezzatura analogica quando lui schiaccia play sulla sua console di mixaggio e guardate l'indicatore la lancetta dove gli va gli va gli va oltre i più 3 gli va a fondo scala avrà un segnale che assolutamente e completamente distorto ingestibile quindi noi a 0 decibel nella nostra dove digitale a 64 bit in virgola mobile con gli ultimi con le ultime gli ultimi sequencer adesso li chiamano dove con digital auto audio station con le ultime dove il nostro possesso non avremo ovviamente problemi di clipping digitale potremmo mandare fuori una canzone tutta intorno agli 0 decibel perché noi non avremmo clipping a 64 bit in virgola mobile e con le caratteristiche ripeto funzionali delle dov moderne ma quando mandiamo il nostro file o i nostri diversi file se sono più di uno al nostro studio di registrazione perché vogliamo farceli mixare da un mixer engineering migliore di noi stessi o a uno studio di mastering per un mastering finale dove ripeto sia in uno sia nell'altro hanno attrezzature analogiche loro avrebbero il segnale in clipping se noi invece ci abituassimo a lavorare a meno 18 decibel guardate il segnale a loro come arriva intorno allo zero che è ben diverso qui è gestibile la non era gestibile a fondo scala ok quindi lascerò meno 18 una forma una sinusoide pura di 200 hertz togliamo questo che non ci interessa più andiamo ad analizzare le fgs fgs che sono fg sono in tutti i plug in tutti i moduli del plug in slay digital fg sta per fabrice gabriel che il il programmatore è l'ingegnere informatico che realizza gli algoritmi con i quali questi moduli funzionano e vanno ad emulare le macchine per le quali per i quali sono stati creati quindi in questo caso aperto le fgs che sta per fabrice gabriel fabrice gabriel s da ssl quindi da ecolizzatore del banco solid state logic che sono banchi del 1984 prodotti circa negli anni 1983 84 che sono banchi che tuttora alcuni studi di registrazione che avevano allora quando li comprarono allora ad oggi li tengono ancora perché sono banchi eccezionali con cui sono state registrate canzoni di enorme successo di successo di fama stramondiale vediamo che quando lo attiviamo la nostra forma d'onda sinusoidale di 200 hertz pure questo plug in genera una prima armonica intorno ai 400 hertz una seconda armonica intorno agli 800 una terza armonica intorno ai 1200 intorno ai 1600 la quarta e via discorrendo vedete sono tutti i multipli pari della mia fondamentale questa si chiama la fondamentale queste sono armoniche che sono multipli della fondamentale e sono multipli pari perché la fondamentale 200 hertz queste 400 e il doppio di 200 800 e il doppio di 400 sono multiple vedete e sono pari quindi sappiamo che questo plug in genera 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 sul nostro suono armoniche di tipo pari multiple pari della nostra fondamentale è un ecolizzatore abbastanza colorato comunque probabilmente è il colore che da anche l'ecolizzatore originale del del banco ssl andiamo a vedere da harmonic analisi ho messo in linear analisi e vediamo che se lo disattivo l'elettrocardiogramma è perfettamente piatto se lo attivo abbiamo un piccolo roll off dai 5 dai 5 hertz in giù di frequenze neanche per tanto percepibili dall'orecchio umano però graficamente si vede che fa un piccolo roll off e un piccolo avvallamento quindi una piccola diminuzione ma proprio leggerissima intorno ai 2200 hertz quindi questa è la sua firma sonora in poche parole nel momento in cui il nostro suono passa da lì non è più così ma è così è la sua firma sonora che non è leggermente percepibile anzi quasi impercepibile a orecchio umano però la sua firma sonora al nostro suono la dà va a modificare lievemente il nostro suono in ingresso e con tutti i pomelli in posizione zero standard andiamo a muoverli questi pomelli andiamo a vedere il filtro l'i pass filter i pass filter come dice il nome vuol dire ai frequenze alte pass passano e taglia quindi se passano le alte taglia le basse quindi l'i pass filter fa passare le alte e taglia quindi di conseguenza le basse il low pass filter è l'antagonista dell'i pass filter cioè il low pass filter fa passare come dice il nome low le low le basse pass le basse passano e taglia quindi le alte quindi l'o pass filter taglia le alte l'i pass filter taglia le basse ok quindi questo è un i pass filter lo attiviamo vedete che taglia questa zona di sinistra che sono le basse e lascia passare la zona di destra che sono le medio alte intanto vediamo subito ci rendiamo conto subito della curva di questo filtro che è una curva musicale non ripidissima ma neanche tanto dolce quindi è una buona via di mezzo taglia bene le frequenze quindi ci pulisce dalle frequenze fango frequenze che vengono chiamate fangose che sono nella zona bassa e lascia passare tutto il resto è un buon filtro nel banco originale ssl credo di ricordare che sia un filtro intorno ai meno 18 decibel d'ottava cioè la sua pendenza è 18 decibel d'ottava poi ci sono quelli a 24 decibel d'ottava poi ci sono quelli a 48 decibel d'ottava e vi discorrendo fino ad arrivare a dei veri brick wall dei veri muri tagli proprio in cui questa curva qua diventa un angolo di 90 gradi proprio però sono filtri particolari che vengono usati per un sound design particolare i filtri musicali usati nelle attrezzature che si trovano nelle attrezzature vere analogiche che si trovano negli studi di registrazione di fama mondiale hanno tutte una curvatura del genere non si va sotto al meno 18 decibel di slope dipendenza ed è un bel filtro sicuramente poi abbiamo il low shelf adesso qui è tarato a 240 hertz proviamo ad alzare e diminuire lasciando stare la frequenza vediamo che infatti il suo punto di intervento i 240 sarebbero quasi in realtà aumenta già da qua però è abbastanza preciso la curva è abbastanza dolce la curva è abbastanza dolce quindi il filtro è molto musicale sia in aumento sia in calo vedete che la curva comunque rimane abbastanza dolce ok questo è l'off shelving l'off shelving poi abbiamo light shelving shelving è il tipo di filtro è proprio lo scaffale shelving vuol dire scaffale infatti ha questa forma di S a scaffale andiamo light shelving lasciandolo nella sua 7,50 kHz o 7,500 kHz vedete che anche questo ha una curva abbastanza dolce quindi molto musicale sia in aumento sia in diminuzione possiamo spostare la frequenza chiaramente eccetera eccetera riportiamo alla base poi abbiamo che i due shelving possono diventare anche bell cioè campane infatti vediamo che possono essere usate anche campana quindi bell shelving bell shelving è la stessa cosa sugli alti shelving bell shelving bell ok poi abbiamo i medi medio basse qui stiamo la frequenza impostata è 1,15 andiamo a vedere la punta e lui va ad aumentare a 837 Hz quindi vedete abbiamo impostato a 1,15 ma va ad aumentare gli 837 Hz se voglio aumentare l'1,15 devo aumentare qui sono circa 1,15 ma lui qua indica 1,6 quindi vedete che probabilmente anche l'ecolizzatore del banco SSL vero ha questo problema cioè il problema è la variante dei componenti hanno campionato una parte del banco che aveva questa variante che anche se indicava 1,15 in realtà va ad aumentare o tagliare meno vedete che va in quella zona lì una cosa caratteristica è che prima della frequenza di diminuzione o di aumento lui va a creare questo allora quando togliamo va ad aumentare poco prima le frequenze poco prima quando andiamo ad aumentare va ad abbassare poco prima vedete che qui non ce l'ha qui ce l'ha da questa parte quindi ha questa leggera caratteristica un'altra caratteristica guardate teniamo d'occhio questa zona siamo a 8,1 decibel vado ad allargare l'immagine guardate cosa succede mentre allarga la campana abbassa improvvisamente ma di un totale anche eravamo a 8,1 decibel siamo a 6,4 decibel e se torniamo indietro vedete che rifà la stessa cosa alza, alza, alza fino lì stringe e poi riabbassa guardate che caratteristica è notevole è veramente notevole questo è il comportamento del filtro e soprattutto della sua regolazione del Q stessa cosa vale per i medio-alti vediamo se è vero si abbassa e stringe alza e allarga comportamento simile e questo è l'ecolizzatore del banco SSL disattiviamolo un attimo andiamo a prendere un altro ecolizzatore che è FGN quindi scusate ho sbagliato che è FGN quindi è sempre Fabrice Gabriel N sta per NIV va ad emulare un ecolizzatore reale quindi analogico una scatola reale prodotta da NIV composta da di solito tre filtri quindi hanno aggiunto uno in più per darci a noi utilizzatori la possibilità di avere un filtro in più ma in realtà la macchina vera era filtro high pass filter come sull'SSL il drive perché questo è un ecolizzatore molto colorato che va anche molto a saturare e un low shelving un high shelving e una frequenza per i medi ne hanno aggiunto uno in più per darci la possibilità di mixare meglio tanto di plauso al Mr. Slate allora andiamo a vedere quando l'attiviamo oh ha la sua firma sonora anche lui anche lui sono lievissimi in percezioni perché qui abbiamo un aumento ma sempre di frequenze vedete parte dai 20 Hz frequenze che il nostro orecchio neanche riesce a captare però le modifica e un leggero roll off quindi abbassamento delle alte frequenze che parte vistosamente dalle 4600-4800 e va fino alle 20.000 ok spengo elettrocardiogramma piatto accendo e vedete che anche lui dà la sua firma sonora che è diversa da quella dell'SSL ok poi andiamo ad aumentare lo shelving che è fisso a 12 kHz come la macchina originale vera vediamo qua che mentre aumentiamo i 12 kHz che poi in realtà non sono 12 perché 12 siamo qua ma la punta della campana è qua quindi intorno ai 6600 il vero aumento ma ci accorgiamo che crea una leggera protuberanza in negativo quindi abbassa le frequenze subito prima quelle dell'innalzamento a quelle che noi stiamo innalzando vedete che crea proprio questo questo giochino intorno ai 600 Hz come vedete ok se abbassiamo crea invece un innalzamento delle frequenze sempre intorno ai 600 Hz prima della frequenza dove dobbiamo intervenire poi abbiamo il low shelf che è l'antagonista dell'high shelf bellissimo anche questo perché va ad aumentare anche lui abbassando leggermente le frequenze poco prima della nostra frequenza di intervento e sono sempre le 600 famose anche nell'off shelving e se abbassiamo uguale a prima sempre le no qua prima erano 600 qua è aumentato un po' siamo intorno agli 800 850 Hz aumentano poco prima della nostra frequenza di intervento caratteristico anche questo questo NIV molto caratteristico poi abbiamo le medie che a differenza dell'SSL non ha Q regolabile quindi da stringere o da allargare la Q è fissa e vedete che la campana rimane molto larga io qua sto intervenendo a 1600 siamo a 1600 stavolta è corretto però vedete che la campana comincia ad aumentare già dai 2008 2005 e finisce intorno ai 6000 cioè la campana va ad intervenire anche su tante altre frequenze adiacenti a quella dei 1600 quindi è una campana molto larga molto musicale infatti questo equalizzatore non viene usato tanto per togliere chirurgicamente frequenze per esempio fischietto frequenze risonanti vengono chiamate anche fischietto o frequenze dannose al nostro suono perché con queste campana con questa larghezza di campana non è possibile andare ad intervenire precisamente sulla frequenza che vogliamo aumentare o togliere quindi cosa succede vengono usati soprattutto questi equalizzatori per togliere su campana stretta io posso andare a intervenire davvero su frequenze fastidiose perché ho la possibilità di stringere la campana voglio togliere le 1000 e non andare a toccare tante altre adiacenti uso l'SSL con campana strettissima e vado a togliere e sono sicuro che toglierò le 1000 e poco più in là perché la campana riesce a essere veramente molto stretta in questo caso non ci riesco e allora cosa si fa si tolgono le frequenze risonate con questo equalizzatore e con questo si va ad aggiungere invece le frequenze buone perché perché avendo una campana molto larga e soprattutto aggiungendo molte armoniche al segnale vado ad arricchire in meglio la parte buona del mio spettro sonoro con questo tolgo con questo aumento intanto vi ho dato un piccolo trick andiamo a vedere le armoniche che genera vedete che sempre col segnale a meno 18 decibel in ingresso vedete che sulla fondamentale di 200 abbiamo la 400 abbiamo la 600 abbiamo la 800 abbiamo la 1000 abbiamo la 1200 armoniche pari anche in questo caso però a differenza dell'SSL che per esempio generava quella 400 quella 600 quella 800 e poi passava 1200 quindi 468 e passava 1200 questa per esempio è diverso 468 c'è anche quella 1000 c'è quella 1200 c'è quella 1400 ha un'armonica in più per esempio quindi vedete e anche come livelli è diverso rispetto all'SSL quindi sicuramente è molto più ricco dell'SSL in armoniche e ne produce anche di più oltre che diverse ma ne produce anche di più a livello di volume quindi è un plugin molto ricco molto che satura molto poi abbiamo il drive che va ad aumentare ulteriormente se schiaccio drive questo pulsantino vuol dire che all'aumentare di line cioè del volume del mio plugin non cambia il volume di uscita c'è un'autoregolazione del volume di uscita mentre se non lo premo il volume di uscita aumenta davvero di oltre 24 decibel se schiaccio drive invece aggiungerò solo saturazione in poche parole vedete come cambiano i valori guardate le linee che si alzano e si abbassano man mano che aumento il drive quindi la saturazione del mio plugin sono più 12 adesso aumento ancora aumento ancora aumento ancora e qui abbiamo una saturazione veramente molto evidente l'oversampling è su off se faccio on va a pulire il suono dall'effetto aliasing però io lo lascerei disattivato anche perché a questi livelli non ci arriviamo a questi livelli vedete l'aliasing ancora non c'è quindi non lo userei perché se no si va si rischia di sovraccaricare molto il processore questo era il neef poi abbiamo l'API che è un nuovo plugin della serie Virtual Mixed Rag 2 della Slate Digital l'API che emula appunto l'ecolizzatore API dovrebbe emulare il 550A che aveva tre bande basse shelving alte shelving basse chiedo scusa shelving ma optabile anche per picco shelving o picco high shelving quindi alte optabile anche qui per high shelving o picco e una media col Q non regolabile anche perché poi vi spiego il discorso del Q l'API è famoso proprio perché non ha Q regolabile ma ha Q variante a seconda del volume di aumento o di diminuzione varia varia la punta della campanatura questo è l'API 550A che infatti è dotato di filtro vado un attimo in linea tolgo un attimo OPAMP che è il loro preamplificatore che emula il preamplificatore originale OPAMP vedete che allora innanzitutto elettrocardiogramma piatto lo attivo senza preamplificatore e con tutti i pomelli in posizione standard anche lui lascia la sua firma perché ha un roll off abbastanza importante rispetto all'SSL che era appena appena scusate lo rimetto a zero rispetto all'SSL che appena appena calava dai 5 Hz in giù il NIV che appena appena aumentava lo rimetto posto anche lui appena appena aumentava anche lui dai 20 Hz in su quindi cosa praticamente impercettibile e un piccolo roll off sulle frequenze alte l'API invece ha un roll off importante che arriva fino in fondo quindi proprio un taglio però anche qui taglia frequenze molto basse con un piccolo rigonfiamento intorno ai 12 Hz abbiamo una piccola gobina intorno ai 12 Hz se attivo lo pump vedete che mi aumenta il segnale di circa 2 dB per fare questa prova lo spengo un attimo andiamo a vedere l'iShelfing messo su Shelfing 10 kHz diamo aumentare aumentano le frequenze alte o diminuiscono le frequenze alte ok poi posso variare la frequenza o aumentarla 20.000 se aumento sono proprio le frequenze aria però vedete ho impostato 20.000 vedete che comincia ad alzare già dalle 2.000 quindi non è che eh questo filtro veramente favoloso perché con il suo preamplificatore attivo e questo filtro riusciamo a dare le frequenze alte o quella magia che difficilmente riusciamo a riscontrare con altri raggiungere con altri plug-in questo che ha reso famoso l'API poi abbiamo le medie ecco vi dicevo per esempio tolgo open per un attimo vi dicevo per esempio prima del discorso del Q non ha un Q variabile come il nostro SSL stretto largo e regoliamo la campana no è automatico ma all'aumentare di piccoli di pochi decibel la campana rimane larga o al diminuire di pochi decibel la campana rimane larga all'aumentare o al diminuire vale sia per aumentare che per diminuire discorso non sto a ripeterlo all'aumentare o al diminuire invece di ulteriori decibel vedete che man mano che aumento la campana tende a stringersi qui è più stretta di prima qui è ancora più stretta di prima qua non si vede perché va fuori scala ma è ancora più stretta di prima e lo stesso ripeto vale per 2 meno 2 campana larga meno 4 si stringe un po' meno 6 si stringe ulteriormente meno 9 meno 12 ulteriormente ancora quindi all'aumentare o al diminuire dei decibel la campana tende a stringersi ok quindi non è regolabile ma fa lei in automatico man mano che diamo più decibel o man mano che li togliamo più decibel ok andiamo invece scusate andiamo invece in harmonic analysis la nostra forma d'onda pulita pura a 200 hertz vado ad attivare o pump siamo sempre a meno 18 e vedete che anche questo è abbastanza colorato diverso rispetto al niv ma colorato anch'esso qui abbiamo una frequenza armonica a 400 hertz 600 hertz 800 hertz 1000 hertz sono armoniche pari anche queste quindi anche questo è in grado di generare armoniche pari multipli pari della nostra fondamentale poi abbiamo il custom poi abbiamo il lift che sono della stessa famiglia allora analizziamo prima il custom elettrocardiogramma piatto attiviamo il custom abbiamo filt qui è stato dotato di high pass filter e low pass filter vedete che la curva è molto più docile molto meno ripida molto più dolce rispetto agli altri ecolizzatori quindi è molto più musicale diciamo così sia high pass filter sia low pass filter qua lo hanno dotato anche di low pass filter molto dolce perché al massimo taglia intorno ai 5000 chiedo scusa quindi molto dolce poi abbiamo ecco allora una caratteristica di questo custom ecolizzatore che stando almeno a quello che dichiara mister slate è che questo ecolizzatore è stata una sua idea provando a intervenire su suoni che stava mixando nel suo studio di registrazione con diversi ecolizzatori analogici quindi veri scatole reali vere ne aveva diversi in mano quindi aveva quello a valvole quello a stato solido quello a transistor e quello neutro che ne aveva 5 o 6 e li stava usando su varie fonti sonore e si è accorto sempre stando quello che ha dichiarato lui che agendo sulla stessa frequenza ma con diversi ecolizzatori si otteneva una curva custom una curva mista che era derivata dall'unione di questi vari ecolizzatori e che produceva una sua firma bella netta una firma sonora molto caratteristica perché quello a valvole aveva la sua curva ma unito quello a stato solido ne ne dava un'altra e unito a quello a transistor ne ne dava un'altra ancora quindi ha creato curve personalizzate non standard non dovuta ad un unico ecolizzatore ma custom come dice il nome stesso perché sono le derivanti di più macchine analogiche messe a lavorare insieme sulla stessa frequenza solo che ognuna chiaramente ha la sua curva sonora ha la sua firma sonora che darà all'audio un risultato diverso ovviamente quindi per intenderci se io vado a lavorare sulle 12k vado a aumentare guardate cosa succede questo per esempio è un'unione di un picco più uno shelving perché vedete il picco tornerebbe giù fino qua invece vedete che quindi è uno shelving con una gobba molto molto sviluppata intorno agli 11.000 se diminuisco uguale è uno shelving con una gobba predominante intorno agli 11.900 12.000 se lavoro per esempio sul medio alto 4k guardate cosa succede questo è sicuramente un'unione anche qui tra un picco e uno shelving ha unito un picco insieme a uno shelving a 7.000 uguale 2.000 uguale anche se lo shelving è molto più ridotto sembra quasi più un picco ma secondo me è un picco più uno shelving che genera questo tipo di curva a 600 guardate per esempio 600 guardate che curva non regolare aumenta leggermente poi torna ad abbassarsi e poi torna ad aumentarsi con una Q strettissima qui è probabilmente un picco con Q molto stretta unito però anche a qualche altro picco di qualche altro ecolizzatore che aveva una curva leggermente diversa uniti hanno creato questo tipo di curva per esempio sia in salita no discese è diverso vedete quando tolgo tolgo in modo molto più uniforme e omogeneo quando aumento invece subentra quella curva lì perché si vede che nell'aumentare ho usato filtri diversi ecolizzatori analogici diversi guardiamo sui 60 100-200 e qua è un po' come gli altri è un picco unito lo shelving che genera questa curva 100 è ancora più marcato 200 qui è ancora più marcato quindi è un shelving molto ripido che fa questo scherzo qua quindi tipo vintage è uno shelving vintage che fa questa però il vintage va giù anche qua di solito quindi qua è uno shelving unito un picco secondo me ed è molto caratteristico andiamo a vedere come armoniche sinusoide pura a 200 Hz aumento gli alti abbiamo la generazione di un'armonica a 400 quindi una multipla pari se lavoriamo 4k 2 armoniche addirittura se lavoriamo 600 2 armoniche ma molto più preponderanti rispetto a prima se lavoriamo nelle frequenze basse anche qua due armoniche che si sentono molto quindi prepotenti quindi non è un plug-in neutro anche lui non è colorato come gli altri ma non è neanche neutro neutro ok andiamo a vedere invece il suo fratellone suo fratellino anzi sempre della custom series lift allora attiviamolo elettrocardiogramma piatto che non cambia quindi questo non lascia nessuna firma sonora mettiamo present e big andiamo a aumentare big ragazzi scusate anche questo è uno shelving classico shelving ma con due due brufoli due picchi evidenti a 54 hertz e a 95 hertz 94 hertz mentre l'avvallamento è a 73 vuol dire che le frequenze intorno ai 70 non le ha toccate va ad aumentare le 53 e le 95 quindi è uno shelving con due brufoli a queste due frequenze e questo in effetti non l'avevo mai visto ed è la combinazione sicuramente di diversi filtri analogici in punch invece vedete che cambia abbiamo solo una gobba anziché due come quelle di prima e l'abbiamo nella frequenza intorno ai 90 questa frequenza qua in pratica toglie questa protuberanza e lascia solo quella protuberanza lì mentre gli alti present abbastanza caratteristica anche questa come curva perché vedete che qui va su così qua scende ma qua fa un leggero questa leggera gobba e poi riscende ancora è molto caratteristica anche questa anche qui mi viene da dire che è adatto dall'unione di due filtri diversi ecco spiegate la differenza tra silky e present mentre present aumenta solo intorno ai 5000 silky aumenta anche le 11000 infatti silky vuol dire che lavora sulle frequenze setose quelle proprio più alte present sulle frequenze che danno presenza che sono le 5000 ok abbiamo fatto vedere anche il lift air e air terra e aria attiviamo il terra questi sono due filtri molto semplici allora elettrocardiogramma piatta attiviamo rimane piatto questo serve per aumentare le basse ma nello stesso tempo tagliandole e scegliendo come taglio la pendenza del nostro filtro 6 12 18 24 36 decibel d'ottava e la nostra frequenza di taglio vedete aumento ma taglio nello stesso tempo la stessa cosa vale qua aumento le frequenze aria proprio le altissime ma nello stesso tempo taglio e decido la frequenza di taglio e la relativa pendenza ok bene per oggi è tutto abbiamo analizzato gli ecolizzatori del virtual mix rack volume 2 nella prossima puntata vedremo i compressori e gli altri strumenti ciao a tutti a presto Grazie a tutti.